Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale, rieccoci insieme su XCOM 2 Ci eravamo lasciati con l'ultima missione allo sbarco contro l'UFO Eravamo infatti stati attaccati e siamo dovuti atterrare per distruggere questa sonda che ci impediva di ripartire Allora, muoviamo il nostro truppino all'attacco Totiana, te ti metti qua, vai Piazza di qua Muoviamo i nostri fedelissimi Te piazza di dietro l'albero Kazumi, anche te dietro l'albero Devcon, Milena, Milena, te ti piazzi qua Te invece ti piazzi qua E infine tu ti piazzi qua Bene, sono tutti stati mossi Ah, vediamo i primi nemici Un bel mecha advent e una fanteria corazzata Vediamo un po' Ah, ci arrivano anche rinforzi Ah, è poppato un nastro alleato Vediamo un po' se riusciamo A spostarlo qui Possiamo fare il protocollo di controllo? Si Proviamo sul Mac Perché non l'ho mai provato il protocollo di controllo Dai che ce la fai Inizia Quindi disabilita Quindi disabilita Stordisci l'unità Beh, buono, buono Ok, disattivazione per due turni Intanto abbiamo guadagnato tempo E spara Ah, niente Mettiti in guardia, va? Cecchino, niente Te Pazza Proviamo a lanciare una granata Vai Dai che si fanno un bel po' di danni E perde pure la Di riparo E adesso non ti ripari dietro a niente Tu Ah, ti avevo messo in guardia Vabbè Ti piazzo qua E vai di pistola Contro questo qui Ah, arrivano nemici Dai che è in guardia questo Niente Mancato Vabbè, dai Hanno pure uno di corazza queste grisali Vabbè Diamo il colpo di grazia a questo qui E ce lo siamo tolto uno Adesso Concentriamoci sulle grisali Puoi lanciare una bella granatina Sì Vai di granata Vediamo quanto li togliamo Dai che sono rimaste tutte a due Allora Allora Tu ti piazzi Qua Io ci sono Visto che sei un samurai Ranger Te invece Spari al primo Vai Perfetto Ok Azione nemica Questa ancora in disattivazione Oh si muovono Ah, anche i muton ci stanno Anche i muton Vediamo che combinano Si vanno a riparare Eh, immagino Sì Qui già vedo un soldato anche Speriamo non facciano male No, niente Questo Fa male Sicuro Tre danni Più veleno Fa l'attacco di risposta Bene, bene E l'ha ammazzato Good Piazza di qua Chi puoi colpire Questo al 29 Questo al 36 E intanto facciamo fuori questo Per sicurezza Poi Andiamo avanti Con i nostri soldati Tu puoi uccidere qualcuno Uccidi questo Prova uccidere questo qua sopra Anche se Non ce la fai Troppa vita C'ha Critico ha fatto Mamma mia Kazumi Kazumi Ha fatto Il colpaccio Allora te Piazza di invece qua davanti E Ammazza a sto punto Il mech Dai Togliamoci La scatola Va benissimo Per adesso Procede tutto Nella giusta Direzione Muoviamoci te In avanti 26 Mettiamo soppressione Voglio vedere che combina Se si muove E te Ti piazzi qua In Una granata No Mettiti in guardia Va Viste che abbiamo Parecchi soldati Possiamo fare diverse azioni Anche tu Ranger Mettiti qua E spara No 14% Mettiti in guardia Va Io più che altro Ho paura Che possa fare qualcosa di Brutto Questo Ah no Questo qui sopra Vi ho ammazzato E questo qui Posso lanciare una granata Qui e colpire Tipo 3-4 soldati Insieme Vabbè Mettiti qua davanti te Mettiti qua E stai fermo Ok Vale che vada Se ci attaccano Ho la granata Flash Un veleno Vabbè dai No Si è impanicato Quando si impanicano Che brutto Non vale che ha ammazzato Sembrava colpisse il mio Non mi dica che colpisce Ah Mancato Mancato Benissimo Benissimo Sta andando tutto bene No 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 Ok Guardia Sette danni Vediamo Ok Anche l'altro Perfetto Mancato Niente Vabbè Riuscito a passare Questo Che vuole fare Cinque danni Cinque danni Vediamo se riusciamo A curarlo Qui vedo Altri ancora Altri grisalidi Fatto lo scudo Va bene Ok Un altro Un altro Alleato Perfetto Questo è ancora Impanicato Questo qui Non bisogna spostarlo Con una granata Lancia la granata Qui va E almeno Gli liberiamo La copertura Tu Che cosa puoi fare Con la flashbang Che cosa convini No 67 72 85 Trova a colpire Questo Vediamo se Fai che Non ammazzi No niente Cinque danni Cinque danni Va bene Non ci preoccupiamo Tu Piazza Piazza di Qua Ah però Qui non ha protezione Pensavo fosse Un murettino piccolo Invece La piazza di qua Almeno c'è protezione Qui lo aggiriamo Questo Muton Vai Finiscilo Perfetto Good Good Uno in meno Mettiti qua E Ammazza E ammazza questo Vai Perfetto Adesso è rimasto Solo questo qui Da muo No Questi due Chi c'è rimasto Allora questo Lo piazziamo Intanto qua Un altro Ranger Mi ha portato Allora Io direi Di muovere Milena Qua E Provare Il lanciarazzi No Niente Lancia granate Non c'è senso Proviamo a sparare Normalmente A colpire Questo Va Good Dai 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 Buono Buono Questo sta Continuando A perdere vita Altri nemici Da questa parte Cazzo Qui sono scoperto Ok Panico Rimosso Chi c'ha La cura Vediamo un po' La cura Chi ce l'ha Questa Scansione C'ha Mi sa che Nessuno C'ha La cura La cura Con gremlin Qualcuno ce l'ha 8 13 5 10 10 12 Proviamo a farlo Su di leva Vai La cura Con gremlin Perfetto Così Si è ripresa Un po' Ok Ogni tanto Sfancula Il video Allora Te vai Difendente Dai che è rimasto A poco Vai anche tu Difendente Così Almeno muore Ok Ok Scudo rimosso Perfetto Allora Poi Te Vai qua Vediamo se puoi lanciare Il razzo Così Vediamo se riesco a colpire Tutto Andiamo così Vai Ne abbiamo colpito solo uno E ti ringuardia Va Te piazzati Qua Ok Kazumi Si è posizionata E te Arrivano da quel lato Quindi Piazzati qua Va Facciamo una mini Barriera Mettili in guardia Te Ok Buono Buono Tu qui E anche tu in guardia Va Ok Buono Ecco che arrivano Le nuove truppe Allora Sono Due mech Due mech Proviamo a disabilitarli Di nuovo Come ho fatto Prima Che vi sembra La cosa migliore Così muovono Dai che sono in guardia I miei Dai Niente Mancato C'è qualcun altro Si Ok Questo ha subito Un po' Un altro in guardia Niente Mancato 14 di vita Quello c'ha Bel po' Eh Comandate Sto inviando rinforzi Dalle riserve Della major Allora Prima di partire Vediamo Chi ci aveva Ora no Questo è il protocollo Era lui Che ci aveva Si Fai il controllo Su di questo Vai Perfetto Vediamo Vediamo come si Approccia Il nostro Robottino Inizia Vai Vai Che ce la fai Vai Che ce la fai Vai Che ce la fai Eh Come sarà un problema Vai di granata Vai Granata Vediamo quanto fa Perfetto Gli abbiamo tolto Un po' di Corazza C'è qualcun altro Con la granata Lei Bene Mettiti qua Granata No Non li becca Tutte e due Vai difendente Allora No Non ce la fa Col fendente E ammazza Questo Allora Va Ok Una a terra Arianna Ha fatto Il suo Dovere Ecco che si muovono Dai che si muovono E questa è la base Ok Si avvicinano Pistolettata Allora Ci serve un danno Ad aria Qui Vai Così Prendiamo L'oggetto Mirino laser E spariamo Una bella granata Perfetto Vai Dai che Muore Dai che muore Qualcuno No 1 a 1 1 a 2 1 a 3 E il congenio Sta a 3 di vita Ma qui toglie Troppo poco Allora Andiamo di sparare Un po' Vai Ammazza Questo qui Perfetto Sono rimasti Veramente A un cavolo 5-7 Di vita Anno fa Riesce a colpirlo Da qui Non mi ricordo Vabbè Colpisci Questo qui Allora Jane Kelly Ah Jane Kelly Era ferita Granata No Troppo lontano E posiziona Di qua Dietro L'albero Va Anche se Sei ferita Jane Sei sempre La migliore Fendente No Cioè Col fendente Possiamo pure Ucciderlo Però se Però se Non lo uccidiamo Gli stiamo Gli stiamo Appiccicati E ci abbiamo 8 di vita Quindi No Spara Niente Non l'abbiamo Ammazzato E quello Rimarrà vivo Mi sa Ah si Ma farà Un attacco Sicuro Adesso Vediamo Che fa Di nuovo Vereno Vai Rispingi Perfetto Va bene Questo qui Dacci una Una bottarella Ci da Non ha fatto niente Ah io direi Di distruggere Al volo Indietreggiamo Un po' E Distruggiamo Intanto Vabbè Distruggiamo Questo No 48 È ammissato Cazzo Vediamo Un po' Che puoi fare Mettiti qua Ah no Non c'ha munizioni Lei Vabbè Ricarica Sì Ricarica Va Vai Difendente Su questo Qui va E Concludiamo La sua vita Ok È andato giù È andato giù Promozione pure Te piazza di qua Ecco la pistola No Nessun bersaglio Come no Nessun bersaglio Piazza di qua Fai guardia Tu ricarica Tu ricarica Ok È andato via Tutto I nemici non devono Raggiungere la rampa Perfetto Dai l'ordine di decollare I nemici non devono Ok 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 Va bene Allora indietreggiamo Con tutta la squadra C'è rimasto nessuno? Eh direi di far partire Avenger Chi Chi Cavolo c'è rimasto? Ok Fai partire L'Avenger Va Vediamo che ci dice Ok I robottini Sono stati chiamati Eccellente Non è ancora l'ora Della venger Ok Quindi solo Promozione Tempesta di lava Implacabile Ok Implacabile Sicuramente Tu Ti becchi Possono essere attivati Comunque Non sono i movimenti Produttore Conferisce Versare un colpo di fuoco Di copertura Dai guardi Arrigare Ok Mettiamo questo Te invece Mani fulmine Sempre Comunque E Continuiamo Mirino Laser Abbiamo preso Va bene Allora Andiamo avanti Giusto un pochettino Col tempo Visto che Ci è andata bene Vabbè Prendiamo le riserve E siamo in Australia Redford Comandante Eccellente L'analisi dei frammenti Di dati del codex È quasi completa Le informazioni ottenute Compensano di gran lunga La perdita Della camera ombra Come vedrete Quello è Un anziano Cavolo Non ne vedo uno Da almeno dieci anni Sì E credo di aver capito Finalmente il perché Gli anziani Sembrano afflitti Da una grave forma Di degenerazione Dei tessuti Un'atrofia muscolare Più aggressiva Di quanto credessi possibile Stanno morendo Stanno morendo Ah finalmente Dai Purtroppo come tutto Quello che riguarda Il nostro nemico Le cose non sono mai Così semplici Sono secoli Che gli anziani Cercano una cura Alla loro condizione Senza tregua Ogni volta Che trovavano Una nuova specie Procedevano Al recupero Di tutto Il materiale Genetico possibile Per poi passare Al mondo successivo Fino ad oggi Credo che in noi Abbiano trovato qualcosa E ti pareva Qualcosa così importante Da mettere le radici qui La solida sfiga Non posso dirlo con certezza Molti file cruciali Sono stati cancellati In nome di qualcosa Che chiamano Direttiva avatar Avatar Ci servono quei file Se solo riuscissi Ad avere accesso Ad un codex funzionante Forse potrei recuperarli Forse questa volta Farà saltare Tutta la nave Non ho detto Che la creatura Mi serve qui Bradford Sono convinto Di riuscire Ad accedere in remoto Sempre che i nostri soldati Siano in grado Di avvicinarsi abbastanza Senza dover eliminare L'unità Possiamo provarci Dottore Sarà difficile Quelli mica Ci facili Le cose Usa il jack craniale Su un codex Viola la rete aliena Mi occupo Di tutte le nostre operazioni Comandante L'equipaggio È ai suoi ordini Ok Scegliamo Nessun progetto disponibile Quindi ritorniamo Sulla ricerca Decodifica Ok Ponte Continuiamo a Qua Ah Detriti rimossi Allora abbiamo Un po' Di soldini Io direi Di costruire Qui Il nostro Laboratorio Scientifico Perché era L'unica cosa Che 3 3 Si Era la cosa Più pesante Che si poteva fare Dal punto di vista Energetico E non ce l'abbiamo Ancora Potrebbe Desire Di segnalo A questo compio Si Allora Abbiamo altri ingegneri Da assegnare Si uno Energia Ne abbiamo poca Quindi direi Di Potenziare qua Lo snodo E ci assegnava pure Un ingegnere Quindi abbiamo Adesso Energia Da vendere E stiamo A posto Direi Andiamo Sul ponte E recuperiamo Queste risorse Assegniamo Un nuovo Progetto Bomba MP Potenzia Infligge Tanni Ingenti A Versagli Robotici Yes Non possiamo rimanere Momentanamente Fuori Uso Progetti Di schermo Blu A questo Punto Io farei Un'armatura Sperimentale Mi sa Ho un'arma Pesante Abbiamo pochi nuclei Aspetta Aspettiamo un attimo Tanto non è che succede qualcosa Se Non ricerchiamo Anzi No vabbè Aspettiamo un po' Ok Vediamo un po' Sul mondo Se possiamo raccogliere Qualcos'altro Di interessante Soldi Ne abbiamo pochi Però Possiamo stabilire Contatti Quello si Per dati Per dati Possiamo stabilire Contatti Vai Mazza Fai giro Dall'altra parte Good Vai con i contatti Visualizza Posizione Ride Ignoriamo Un attimo Direi che ci possiamo Fermare qui Questa missione È una missione Secondaria Quindi me la farò Per conto mio Così potremo andare Avanti un po' Con la storia Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Una condivisione E ci vediamo Al prossimo video Ciao